In studio Viviana Sammito. Buonasera, lo avete sentito. Dopo l'EMA c'è anche l'Occhè dell'AIFA per il secondo vaccino bivalente anti-covid contro le sottovarianti di Omicron 4 e 5. Il secondo arrivato nel giro di pochi giorni in commercio raccomandato agli over 60 e ai fragili. Facciamo il punto nel servizio di Sara Donzuso. Arriva l'ok da parte della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA all'utilizzo del vaccino bivalente contro le varianti Omicron 4 e 5 approvato già da EMA qualche giorno fa e verrà utilizzato come dose booster per tutti i soggetti previsti all'indicazione autorizzata. Come sottolinea il CTS, la dose booster è raccomandata in via prioritaria ai soggetti che presentano fattori di rischio e agli over 60. Tutti gli altri soggetti possono comunque vaccinarsi con la dose booster sul consiglio del medico o come scelta individuale. Dunque adesso sono due vaccini bivalenti per cui l'AIFA ha dato autorizzazione. Il primo protegge all'acceppo originario nonché da quello di Omicron 1, mentre il bivalente approvato ieri protegge da Omicron 4 e 5. E' la stessa CTS dell'Agenzia Italiana del Farmaco a chiarire che al momento non ci sono elementi per esprimere un giudizio preferenziale nei confronti ai diversi vaccini bivalenti disponibili. Tutti, chiarisce nel comunicato l'AIFA, aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19. Anche il vaccino bivalente BA1 infatti si è mostrato in grado di indurre nei confronti della variante BA5 una risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario. Contrastanti però i pareri delle persone sulla quarta dose. Farà la quarta dose? No, bastava la terza, ci è bastato. La terza mi è bastata, la quarta non ne faccio più. Lei? Io, neanche io, non ne faccio. Perché voglio sentirmi bene, perché ho paura, ho paura, ho paura. Quindi non si sente protetto con la quarta dose? La quarta dose no. L'anno prossimo, per cui l'anno prossimo lo farò e sono completa. Speriamo che finisca. La quarta dose non l'ho fatta, ma la terza sì. Ancora la quarta non è qua, almeno la mia dottoressa mi ha detto ancora non c'è proprio di farlo, mi avviserà lei. Ci proteggiamo di più, diciamo. Io sono un medico, sono obbligato a farlo. Lo faccio anche perché ci credo. Positivi dati sul Covid-19 in calo, ricoveri e contagi, secondo il bollettino settimanale da Zoe, un trend confermato anche dal bollettino della Fondazione Gimbe. Sul fronte delle vaccinazioni del primo marzo, quasi 105.000 quarte dosi effettuate. Sono 959 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 10.578 tamponi processati. Ieri positivi erano 979. Il tasso di positività è il 9%, è lieve diminuzione rispetto a ieri. La Sicilia è al settimo posto a livello nazionale per numero di contagi giornalieri. Nell'isola ci sono 37.150 positivi, con un aumento di 952 casi. Non si registrano nuovi guariti, però sono 7 le vittime, per un totale dei decessi di 12.174. I ricoverati sono 243, 12 in meno rispetto a ieri e nelle intensive sono 19, con 4 pazienti in meno. A livello provinciale si registrano a Palermo 247 casi, a Catania 207, 174 a Messina, 99 a Sieracusa, 72 a Trapani, 51 a Ragusa, a Caltani 741, da Grigento 43 e nel sempre ultimo, con 25 nuovi casi. In Sicilia, tuttavia, secondo i dati diffusi dal DASOE, nell'ultima settimana ci sono stati 6.511 casi, di 24% in meno rispetto alla settimana precedente. Rispetto anche alla media regionale, il tasso più elevato di nuovi positivi si è registrato nelle province di Messina, Siracusa e Ragusa. Le fasce d'età più a rischio sono quelle tra i 60 e i 69 anni e tra i 70 e i 79. Per quanto invece riguarda le vaccinazioni, in riferimento alla settimana dal 7 al 13 di settembre, hanno completato il ciclo primario 69.188 bambini, pari al 22,45% del target regionale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,74%. I vaccinati con terza dose sono pari al 72,30% anche sul piano nazionale, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Dalla 7 al 13 settembre il numero dei contagi ha fatto registrare un calo del 12,9%. I ricoveri per il Covid sono diminuiti del 13,3%. Decresce anche il numero dei decessi con il 14,3%. Il piano per la riapertura delle scuole è inadeguato e rischia di avere un impatto sulla circolazione del virus e conseguentemente sulla salute pubblica. Quanto afferma il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, a seguito dell'indagine condotta dalla Fondazione, insieme con l'Associazione Nazionale dei Presi delle Indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Il piano di riapertura delle scuole potrebbe avere un impatto rilevante sulla circolazione del coronavirus e sulla salute pubblica, perché inadeguato, con un possibile impatto anche sui giorni di scuola perduti. Ne è convinto il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, a seguito dell'indagine condotta dalla Fondazione, insieme all'ANP, l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola e le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Un'analisi che integra anche il Vademecum inviato dal Ministero dell'Istruzione alle Scuole e il DPCM del 26 luglio 2022. Secondo la Fondazione, sono state fornite raccomandazioni spesso generiche e sono eccessive le responsabilità scaricate sulle scuole prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie. Il ruolo dei vaccini nel ridurre la circolazione virale nelle scuole attualmente è modesto nella fascia 5-11 anni per tre ragioni. L'efficacia nei confronti dell'infezione è inferiore rispetto alle fasce d'età superiori. L'attuale copertura nazionale con due dosi è del 35,1% con rilevanti differenze regionali. Inoltre, secondo Gimbe, nella fascia 12-19 anni solo il 46,4% ha completato il ciclo con tre dosi. Altro punto sono i criteri di sospensione della frequenza scolastica. Al di là di alcuni criteri oggettivi, dice Gimbe, come la temperatura e il tampone positivo, la sintomatologia indicata nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità presenta grandi margini di soggettività anche da parte di un medico pediatra. Un altro aspetto analizzato sono gli interventi ambientali di prevenzione. Non viene raccomandato nessun intervento specifico di aria, azione e ventilazione per migliorare la qualità dell'aria, ma solo un generico ricambio frequente di aria, ovvero aprire le finestre, commenta Cartabellotta, che quest'anno, dice, durante la stagione fredda si scontrerà con quello finestre chiuse imposto dalla crisi energetica. È stata riammessa al TAR a poter partecipare al concorso IMSS, una giovane laureata di Palermo di 29 anni che ha vinto il ricorso e che aveva presentato contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che aveva rigettato la richiesta per un differimento della prova. La ragazza non aveva potuto partecipare al concorso perché è positiva al Covid. Il punto è il servizio. Potrà regolarmente svolgere la prova di esami una ragazza palermitana di 29 anni che era stata esclusa dal concorso perché il giorno prima di una delle tre prove era risultata positiva al Covid. Per essere riammessa una ragazza, una giovane laureata di 29 anni e concorrente ad uno dei 1.858 posti per consulenti alla protezione sociale dell'Inps, bandito ad ottobre del 2020, si è dovuta rivolgere ai giudici del TAR Lazio che ha accolto il ricorso ritenendo che la cessazione dello stato di emergenza della pandemia da SARS-CoV-2 si legge nella sentenza non faccia venir meno l'obbligo delle amministrazioni di disporre delle prove supplettive per i soggetti sintomatici o accertamenti positivi al Covid-19. La giovane non si era potuta recare a Roma per la prova d'esame e con una PEC inviata all'Inps aveva chiesto lo spostamento della propria propria scritta, allegando anche la documentazione medica e la positività al Covid. L'Inps, sembra mezzo PEC, ha rigettato la richiesta di differimento inviata alla candidata informandola che non sono previste date supplettive per le prove concorsuali in esame. La concorrente palermitana dunque ha impugnato la decisione dell'ente previdenziale ed ha presentato il ricorso. Turnover saltato per 13 infermieri e operatori sanitari che avrebbero dovuto lavorare all'ospedale di Pantelleria per due o tre anni invece ci sono rimasti per ben sei anni nei giorni scorsi la protesta sostenuta dall'Ursind. Oggi lo sfogo di uno di loro sta a fondo acquisto che dice chiediamo di poter lavorare vicino alle nostre famiglie. Le spese e collegamenti sono insostenibili. Vediamo. Lontani dalle famiglie e dagli affetti da oltre sei anni perché al loro posto non si trovano sostituti. E' la vicenda che riguarda 13 infermieri e operatori sanitari che avrebbero dovuto lavorare nell'ospedale Nagar di Pantelleria per contratto due o tre anni. Ma il turnover stand a quanto ha dichiarato il Nursin il sindacato che li sostiene è saltato e gli ultimi operatori sanitari sono rimasti nell'isola da oltre sei. I lavoratori hanno dato vita anche a un sitin di protesta chiedendo di non essere abbandonati dalle istituzioni. Non ci lamentiamo del lavoro, dice Stefano D'Acquisto infermiera al pronto soccorso dell'ospedale di Pantelleria ma dopo tanti anni chiediamo di ritornare a casa dove torniamo una volta al mese per 4 o 5 giorni con i collegamenti difficili e le spese da affrontare. Con i collegamenti, bene che ci vada riusciamo a raggiungere la nostra destinazione l'indomani perché a un certo orario non ci sono più navi, non c'è più aerei non meno il fatto che dobbiamo affrontare delle spese quale affitto, un altro affitto, luce, gas e mantenerci. L'ASP di Trapani ribadisce D'Acquisto sta cercando delle soluzioni. Ci siamo rivolti all'ASP e loro stanno facendo il tutto per proteggerci, procurare il cambio. Il problema è che non c'è il personale che accetta di venire a Pantelleria. D'Acquisto lancia un appello e chiede di poter continuare a lavorare vicino alla propria famiglia. Siamo stanchi di stare lontano dalle famiglie e vogliamo quanto prima che si trovi una soluzione affinché con noi possiamo ritornare a casa. Nel giro di pochi mesi in Italia rischiano di chiudere oltre 1.300 panifici in tutta Italia. Questo è il grido di allarme di ASP che sottolinea come servono delle misure urgenti così come sono state adottate in altri paesi europei e si rischia anche di portare a tavola solo il pane industriale e non più quello artigianale così come ci dice una panificatrice. Vediamo il servizio. Tra meno di 60 giorni molti panifici potrebbero chiudere a causa dell'aumento esponenziale delle utenze del gas e dell'energia elettrica e il grido d'allarme che lancia Astipan Conf Commercio Italia. Il rischio è che tra un paio di mesi il pane artigianale possa sparire dalle tavole degli italiani. Le piccole e medie imprese di questo passo scompaniranno lasciando spazio ai grandi operatori industriali e la costatazione amara dei panificatori. Ciò che si chiede al governo è un adeguato e tempestivo credito di imposta che compensi l'incremento e il costo energetico nonché un tetto massimo a questi costi già applicato con successo in altri paesi europei come la Spagna e il Portogallo sottolinea Astipan. Da qui alla metà del 2023 in assenza di aiuti concreti alle imprese o di interventi lineari e strutturali finalizzati a limitare l'impatto negativo della crisi energetica si rischia di perdere fino a 1.350 imprese e l'intero settore della panificazione che potrebbero chiudere senza essere sostituite da nuove imprese con una perdita di circa 5.300 posti di lavoro a livello nazionale. Un piccolo panificatore non riesce a sostenere questo costo che si è quadruplicato praticamente nel giro di pochi mesi. Una bolletta che è arrivata anche ai 3.800 euro e 4.000 euro al mese rispetto ai 1.200-1.300 di un anno fa. Sì, rispetto a un anno fa praticamente dicevo si è triplicata, quadruplicata perché mentre un anno fa ancora si pagavano tipo 1.600 euro al mese adesso praticamente se ne pagano 3.800. Cosa chiedete voi al governo? Al governo chiediamo di intervenire di darci degli aiuti tra le altre cose noi siamo delle aziende che non siamo equiparate alle aziende energivore però viviamo di energia quindi gli sgravi che hanno le aziende energivore noi non ce li abbiamo. Subito un tetto alle bollette ma anche un nuovo bonus di almeno 800 euro per consentire a chi è più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dover scegliere se fare la spesa o pagare la luce o il gas sono alcune delle richieste della CGL che domani farà nelle principali città dell'isola un volantinaggio per porre l'attenzione di quante più persone possibili contenuti nella mobilitazione che sta portando avanti il sindacato la CGL sarà nei mercati di Palermo nelle piazze di Cretania Messina e Calta Nissetta le elezioni regionali con le ultime battute mancano 10 giorni lo sapete alle elezioni i big della politica nazionale stanno consumando le ultime battute di questa intensa campagna elettorale nel territorio del sud-est i big della politica nazionale hanno scelto la Sicilia orientale per questa intensa campagna elettorale ormai alle battute finali mancano infatti 10 giorni alle elezioni Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle è candidato alla Camera per il collegio plurinominale anche in Sicilia dopo la tappa di Catania domani con il candidato alla presidenza della regione Nuccio Di Paola sarà tra Messina si raccusa ragusa e Gela e sabato tra Enna Caltanissetta Grigento Trapani e Palermo anche il leader della Lega prima l'Italia Matteo Salvini ha dato appuntamento ai siciliani alle ciminiere domani pomeriggio lui stesso ha detto che intende chiudere il tour elettorale in Sicilia a dimostrazione che vuole dare un segnale al meridione che si è sempre sentito bistrattato e offeso dall'originario a Lega Nord Renato Schifani candidato del centro-destra ieri a Messina ha incontrato sostenitori simpatizzanti criticando l'operato del Movimento 5 Stelle di Catano De Luca da parte sua l'ex sindaco di Messina prosegue in stancabile ad ormai tre mesi il tour in giro per la Sicilia è stata l'Anci l'associazione nazionale dei comuni italiani a chiamare la responsabilità ai candidati per evitare il crack finanziario dei comuni siciliani e per tutelare la dignità istituzionale delle autonomie locali sono necessarie a risorse in favore dei comuni e definire un'intesa tra Stato regione e autonomie locali per superare le gravissime criticità finanziarie di carattere strutturale ha detto Anci Lega Ambiente Sicilia ha posto l'attenzione su 11 temi ai candidati alla presidenza della regione siciliana transizione ecologica beni culturali sanatori condoni edilizi aree protette biodiversità incendi caccia rifiuti d'economia circolare agricoltura acqua concessioni dei maniali immobilità nello stretto non lasciate indietro gli ultimi questo è l'appello di Fratel Biagio Conte alla politica Fratel Biagio Conte si è rivolto alle istituzioni politiche per evitare che gli ultimi poveri detenuti vengono lasciati indietro ho una fortissima preoccupazione ha detto per la decisione presa ultimamente dai politici di togliere o modificare il cosiddetto reddito di cittadinanza fate attenzione il suo monito a non danneggiare la già compromessa famiglia in particolare i bambini i loro figli non togliamo il loro sostentamento trasformando il reddito di cittadinanza o il sussidio in un prezioso lavoro li integriamo questa è la proposta dando loro una vera dignità non lasciandoli passivi e questo vale anche per ogni cittadino comune il missionario laico Biagio Conte ha chiesto anche che non vengono dimenticati i carcerati è doveroso che quando finiscono di scontrare la pena sia le istituzioni sia i cittadini devono aiutarli a non emarginarli e tacciarli sempre come ex detenuti ma come nostri concittadini è necessario fare prevenzione per costruire un mondo migliore senza disagi e nuove povertà così fra del Biagio Conte c'è la cronaca con un quadro ancora più chiaro di quel che è successo mercoledì sera in via della Giudecca ad Ortigia dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco sono stati denunciati due fratelli che avevano tentato di sparare a un 49 già noto le forze dell'ordine che non è rimasto ferito sarebbero due fratelli responsabili di alcuni colpi di arma da fuoco sparati mercoledì sera in via della Giudecca a Siracusa le indagini condotte dalla squadra mobile hanno dunque fatto luce su quanto accaduto alle 19 circa quando una segnalazione denunciava l'aggressione nei confronti di un uomo da parte di due persone che scese da una macchina lo avevano inseguito esplodendo anche dei colpi di arma da fuoco grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza la polizia ha appurato che i colpi erano a salve e che la vittima un 49enne già noto alle forze dell'ordine non era stato ferito i due fratelli di 41 e 38 anni dunque sono stati denunciati per minaccia aggravata dall'uso delle armi alla base del gesto secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero dissapori personali subito dopo l'aggressione si sarebbero disfatti delle pistole a salve il tribunale di Palermo ha emesso un decreto di sequestro nei confronti di un esponente della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio per un valore complessivo di circa 300 mila euro un provvedimento che è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo è messo dalla locale procura nei confronti di un esponente della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio in totale è sequestrati quattro immobili due imprese attività commerciali cinque conti correnti e tre carte prepagate è stato condannato nel 99 alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per associazione mafiosa in relazione a fatti commessi fino al 1982 nel 2011 è stato colpito da un'ulteriore sentenza di condanna a otto anni e dieci mesi per associazione mafiosa e tentata estorsione gli accertamenti economico-patrimoniali avrebbero evidenziato una significativa sproporzione pari ad oltre 471 mila euro tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo il Tribunale di Palermo ha quindi ritenuto che gli immobili acquistati le attività economiche avviate e le giacenze sui rapporti bancari incompatibili con l'accumulo di risparmi leciti nella disponibilità dell'uomo rappresentino il frutto delle attività illecite esercitate o il reimpiego dei relativi proventi non si arrestano gli sbarchi soprattutto a Lampedusa la prima porta d'Europa ad accogliere gli immigrati in cerca di una nuova vita però c'è uno spot quello di Contrata in Bracola che è totalmente sovraccarico di ospiti ne può avere 350 ma superano la soglia dei 1000 immigrati 51 sono arrivati anche a Pozzallo un altro approdo di migranti questa mattina a Lampedusa sono 22 sedicenti egiziani sudanesi e bengalesi che sono stati intercettati dopo una notte di stop agli sbarchi lungo la strada di Cala Pisana a bloccarli dopo l'approdo i militari della Guardia di Finanza che hanno ritrovato la piccola imbarcazione salpata da Bengasi abbandonata sugli scogli sono stati condotti all'hotspot di Contrada Embriacola dove al momento ci sono 1277 ospiti su disposizione della prefettura di Agrigento è previsto il trasferimento di 40 migranti tra cui 10 minori con il traghetto di linea per Porto Empedocle a Pozzallo invece nel tardo pomeriggio di ieri 51 migranti tutti adulti sono stati intercettati dalla motovedetta della capitaneria di Porto di Pozzallo dai tamponi effettuati due persone sono risultate positive i migranti si trovano all'hotspot di Pozzallo ci fermiamo solo per una breve pausa torniamo da voi tra poco ancora ben trovati nel studio per la seconda parte di MTG vi parliamo di una operazione della guardia di finanza di Enna Coda di Volpe che ha permesso di scoprire un giro di riciclaggio per oltre 2 milioni di euro in cui erano coinvolti imprenditori della zona dei Nebrodi sul territorio della provincia Ennese impegnati nei settori agricolo e zootecnico e questo è l'epilogo dell'operazione che è stato condotta nei giorni scorsi dalle fiamme gialle tutti i dettagli nel servizio 12 imprenditori agricoli indagati per frodi in agricoltura indagini che hanno portato ad un vasto giro di riciclaggio per oltre 2 milioni di euro la guardia di finanza del comando provinciale di Enna ha sequestrato beni e denaro per 700 mila euro e questo è il bilancio dell'operazione Coda di Volpe al termine di due anni di indagini coordinate dal tribunale di Enna nell'ambito delle frodi nel settore dei fondi europei elargiti a favore dell'agricoltura ai 12 indagati viene contestato a vario titolo il reato di riciclaggio l'autoriciclaggio l'impiego di denaro benio utilità di provenienza illecita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche le indagini dice la guardia di finanza hanno permesso di accertare come l'acquisto di vasti fondi agricoli sia avvenuto ufficialmente da parte di alcuni imprenditori compiacenti attraverso il reinvestimento dei proventi illeciti originati da truffe e danni dello Stato e dell'Unione Europea perpetrate da famiglie di agricoltori contigui ad ambienti criminali stagione di grande crescita nell'Hub del Mediterraneo negli aeroporti di Catania e Comiso dove tra l'altro sono anche previsti nuovi investimenti che puntano sull'efficientamento energetico e su nuove tratte passeggeri in crescita per l'Hub del Mediterraneo Catania a Comiso nel trimestre estivo più 1,4% Catania e il 30% in più di passeggeri a Comiso un risultato lusignero che apre una nuova programmazione ancora più ricca in termini di servizi e di nuove tratte così come annunciato questa mattina in conferenza stampa guardando però anche a quello che insiste intorno ai due aeroporti a partire dalle infrastrutture stradali che non sono degne del numero di passeggeri in transito per i due scali e si punta il dito ad esempio anche contro la non possibilità di poter fare i marciapiedi in Mia Fontana Rossa a Catania per un'autorizzazione che manca da parte del Comune Tenneo da più di un anno Dobbiamo certamente migliorare le infrastrutture non soltanto quelle aeroportuali ma anche quelle a contorno quindi mi immagino tutta la rete stradale che non c'è oltre a quella a migliorare e anche quella insomma viare è inutile stare a parlare di ferrovia alta velocità le solite cose però dobbiamo farle dobbiamo ancora iniziare la via vita perché aspettiamo purtroppo con grande lentezza che la burocrazia ci sblocchi per fare per esempio i marciapiedi che sono una cosa banale ma importante per dare un senso di civiltà Comiso Imiagodo sia destinato sempre più a crescere quest'anno facciamo il massimo del risultato dal punto di vista numerico di passeggeri abbiamo un progetto che avevamo già sviluppato col Comune per iniziare il ragionamento sulle merci ma non può essere certamente solo e soltanto questo deve crescere in termini di volumi di traffico stiamo ragionando ripeto con gli investitori che sono i compagnieri migliorare il livello di traffico sottolineo come altri aeroporti che sono cresciuti tantissimo lo abbiano fatto perché hanno avuto un sacco di soldi in più rispetto allo zero che ha avuto attualmente Comiso per quanto riguarda gli investimenti in atto non piano di cantieri azione importante anche in termini di efficientamento energetico e che interesseranno anche le terminal moranni tutto ciò per rispondere a un'alta domanda di traffico cambia il vertice al comando provinciale dei carabinieri di Ragusa arrivano anche tre nuovi ufficiali nel reparto operativo radio mobile sia di Vittoria che di Ragusa come anche un nuovo ufficiale un nuovo comandante nella compagnia dei carabinieri di Vittoria il punto del servizio di Giada Giacquinta 45 anni originario della provincia di Salerno il colonnello Carmine Rosciano è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa che stamattina si è presentato alla stampa per il colonnello Rosciano arrivato dal comando provinciale di Firenze e che ha preso il posto del colonnello Gabriele Gainelli trasferitosi a Roma si tratta di un ritorno in Sicilia per me è un graditissimo ritorno in terra siciliana dopo 18 anni ho iniziato la mia esperienza professionale in un'altra parte della Sicilia in Sicilia occidentale quando ero tenente presso il nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi il nostro impegno è quello di porre il cittadino nelle migliori condizioni per poter operare e farlo liberamente essendo un territorio molto ricco pieno di gente attiva operosa laboriosa non possa essere inquinato da tentativi di infiltrazione mafiosa della criminità organizzata nell'imprenditoria nelle attività commerciali stamattina si sono presentati alla stampa anche i nuovi ufficiali che si sono insediati questo mese si tratta del capitano Raffaele Salustro nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Vittoria 31 anni originario della provincia di Caserta arrivato dalla compagnia dei carabinieri di Roma Casilina alla compagnia di Vittoria è arrivato anche il sottotenente Fabio Sartuccio 37 anni originario della provincia di Benevento che ricopre il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile si è presentato alla stampa anche il tenente Luca Manganiello 24 anni originario della provincia di Napoli nuovo comandante nord della compagnia dei carabinieri di Ragusa ed è davvero tutto con questo servizio grazie per la cortese attenzione a voi tutti ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti